Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma ci sono 7 km di coda tra Ronco, Vilaccio e Calenzano, Sesto Fiorentino, e permane sulla variante di Vali con 1 km di coda tra Badia e Aglio. Per i veicoli leggeri, per chi viaggia sulla panoramica, si consiglia di uscire a Barberino di Mugello per correre la strada provinciale 8 militare barberinese e rientrare in A1 a Calenzano. Per chi viaggia sulla variante di Valico, uscire a Firenzuola per correre la strada 65 della Futa e la strada provinciale 8 militare barberinese, rientrando in A1 a Calenzano. Sempre in A1 in direzione Bologna, rallentamenti per perdita di carico tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico. Spostandoci sulla FIPI, 1 km di coda per lavori tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno. Ed è tutto, buon viaggio!